Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del MSR Revo Trail, una ciaspola che ha un'ottima galleggiabilità, ve lo anticipo subito, ma che ha anche diversi difetti, e adesso ne parliamo nella recessione completa. Iniziamo come al solito a parlare del peso. Queste ciaspole pesano 1,8 kg, quindi 900 g a ciaspola. È un peso che, vi assicuro, non si sente, infatti quando poi sono andato a pesarli ci sono un attimo rimasto, perché avendo una superficie così grande, il peso è molto ben distribuito e non sembrano così pesanti. Però in complesso sono ciaspole che pesano un centinaio di grammi in più rispetto a quelle della concorrenza, ma come vi dicevo non si sentono, e anche nel momento in cui le andiamo a calzare non sentiamo un grande peso sulle gambe o sui nostri piedi. Iniziamo come al solito a parlare della forma di queste MSR. Come potete vedere questa forma è lineare, non avremo concature in mezzo, ed avendo una forma lineare questa garantisce un'ottima galleggiabilità. Vi assicuro che una galleggiabilità come queste MSR non ne ancora trovate. Io peso i miei soliti 70 kg e con queste sono state le ciaspole con cui sono affondato meno nella neve fresca. Quindi questa forma gli conferisce una galleggiabilità davvero eccellente. Unica cosa però, se siete persone non troppo alte, quindi se siete persone che non hanno le gambe così lunghe, tenderanno a darvi fastidio, dovrete camminare abbastanza con le gambe divaricate per non farle sbattere l'una sull'altra. Naturalmente poi stanno a decidere se preferiamo il pro della galleggiabilità o il contro della camminabilità. Arriviamo un attimo a parlare dei materiali di questa ciaspola. Tutta la ciaspola è fatta in plastica composita, naturalmente al di là poi di tutte le parti in ferro che sono le lamine, l'alzatacco e via dicendo. E come materiali non mi hanno convinto molto, mi spiego meglio. Hanno avuto un'usura decisamente fuori dal normale. Adesso vi faccio vedere, soprattutto nella parte anteriore di queste ciaspole si sono rovinate tanto, tanto, tanto. Alcuni pezzetti sono andati a saltar via e non è che li abbia usati in modo innaturale o su sentieri dove non c'erano bisogno di ciaspole. No, l'ho utilizzato come utilizzo tutte le ciaspole che recensisco qua sul canale, ma queste sono quelle che hanno avuto la durabilità minore in assoluto. Passiamo però a vedere le caratteristiche di questa ciaspola, partendo dalla parte inferiore. Qui troviamo una laminatura che corre praticamente da punta a tacco, realizzata in alluminio, che ha un ottimo grip. Conferisce un ottimo grip alla ciaspola, sia su neve ghiacciatina che nei traversi va molto bene, però poi dei traversi ne parliamo anche dopo. E che dire, lamina laterale veramente molto ben fatta. Passando poi invece alla ramponatura centrale, come potete vedere qua troviamo due tipi di ramponature. Una fissa, proprio sotto il nostro piede, nella parte in cui va la punta, fissa. Qui come potete vedere è andato via un po' di colore, si sta un pelino arrugginendo, nonostante io le abbia sempre pulite e tenute bene. Quindi anche qua i materiali non così bene. E invece molto soddisfatto del rampone proprio sotto la punta, nel momento in cui andiamo a camminare impuntando il piede. Davanti, questo rampone è fatto molto bene, lavora bene, le punte entrano bene nella neve ghiacciatina, quindi quest'altro rampone invece, diciamo, promosso. Altro aspetto da analizzare nella parte inferiore sono queste tacche in plastica, che vabbè, si sono rovinate anche loro, però dando modo alla ciaspola di poter scaricare molto bene la neve, questa ciaspola utilizzata su neve ghiacciata, neve bagnata, neve fresca, non ha mai avuto problemi di zoccolo di neve, la ciaspola è sempre riuscita a liberarsi dalla neve molto bene, quindi è una ciaspola che possiamo utilizzare praticamente su qualsiasi tipo di neve che incontriamo sul percorso. Andiamo però a girare la ciaspola ed analizziamo l'allacciatura. Allora, questo tipo di allacciatura è composta da una parte in gomma che si va a tirare, che è piena di forellini, e poi da una parte rossa qua, che ha un gancio che va a infilarsi dentro il forellino e che poi chiude tutto il sistema. Questo sistema di chiusura lo troviamo sia per la parte che va a chiudere il nostro tallone del piede sia questa retina che va a chiudere la parte davanti del nostro piede. In generale è una chiusura che comunque resta ferma. Mi ha convinto perché resta ferma, funziona bene, è veramente veloce da togliere la ciaspola, perché basta andare a tirare in modo tale che si apra l'ingranaggio e la ciaspola la togliamo. Forse è il sistema che mi fa togliere le ciaspole più veloce in assoluto che abbia mai provato, però ha un grande ma. Il grande ma è che non avendo un sostegno laterale, questa ciaspola, nel momento in cui proveremo ad andare a fare qualche traverso, il piede tenderà a scivolarci a valle. Diciamo che sì, allacciatura promossa però non è pensata per le nostre Alpi quanto per un territorio più nord-europeo barra americano, dove hanno delle distese di neve e non hanno magari dei traversi complicati come noi sulle Alpi. Arriviamo a parlare dell'alzatacco posteriore. Questo è facilmente azionabile tramite un bastoncino, ha un bel effetto nel senso che si sente quando utilizziamo che andremo a fare meno fatica, però ha un grande problema, ovvero che se noi andiamo a utilizzare questo tipo di alzatacco con uno scarpone flessibile, quindi non semirigido e nemmeno rigido, tenderà a darci particolare fastidio, soprattutto alla lunga davvero stanca molto, perché essendo proprio un pezzettino di ferro messo lì alla lunga stanca. Questo tipo di ciaspoli vi consiglio di utilizzarlo con uno scarpone semirigido o rigido, proprio perché in quel caso lì non avremo problemi di flessibilità dello scarpone e la rigidità della scarpa non ci farà sentire il male dovuto dall'alzatacco. Ma come performa questa ciaspola? Allora, come dicevo, la galleggiabilità è davvero ottima. La cosa che mi ha convinto un pochino meno è la camminabilità, ovvero essendo una ciaspola che ha una ramponatura inferiore che va da tacco a punta, è una ciaspola decisamente rigida e questa la lunga, dopo diverse ore di utilizzo, tende a far stancare molto il piede, per cui personalmente non vi consiglio di utilizzarla per più di 5-6 ore. Per quanto riguarda invece l'avanzamento in avanti quando facciamo il passo, la parte davanti della ciaspola ha un bel angolo di incidenza, quindi ci aiuta davvero molto nel momento in cui abbiamo della neve molto alta davanti e noi dobbiamo andare a fare il passo. Ha un angolo di incidenza che personalmente ho apprezzato davvero tanto. Perciò arriviamo alle conclusioni per queste MSR Revo Trail. Ve le consiglio, diciamo che il prezzo è veramente alto perché queste ciaspole costano 250 euro. L'usura dei materiali per delle ciaspole di questo tipo è una cosa veramente anomala, soprattutto anche per il prezzo. È una ciaspola che fossimo in altri ambienti di questo mondo, come dicevo America o Nord Europa, dove abbiamo grandi distese di neve e quindi la galleggiabilità è più importante dell'affrontare traversi, ve le consiglierei, ma per il nostro territorio appenninico, alpino, su cui è molto più importante avere una ciaspola che ci garantisce un buon grip sui traversi, personalmente non mi sento tanto di consigliarvele. Ecco, penso che per il nostro territorio ci sono altre ciaspole top di gamma che possono costare anche lo stesso prezzo, ma che offrono delle performance decisamente migliori. Quindi ragazzi, la speranza di essere stato esaurimento e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!